Per la provincia di Salerno e Capaccio Pessum sarebbe dannoso restare fermi ancora a lungo. Questo è il monito di Aurelio Tomassetti, consigliere regionale della Campania della Lega sulle conseguenze dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Franco Alfieri, presidente dell'ente di Palazzo Sant'Agostino e sindaco del comune cilentano. Quasi un mese è trascorso dalla misura cautelare che ha riguardato Alfieri e tutto sembra sospeso, osserva Tomassetti. I magistrati fanno il loro lavoro ma la comunità capacese e quella di un'intera provincia, che è tra le prime in Italia per estensione, non possono attendere i tempi della giustizia. Sarebbe grave ignorare le ripercussioni a livello istituzionale. Il consigliere regionale attende che il Partito Democratico batta un colpo. Dopo la sospensione di Alfieri dal partito c'è stato solo silenzio, a eccezione delle solite scaramucce con il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il problema c'è e va affrontato senza tentennamenti, anche per rispetto dello stesso Alfieri, di cui va tutelata la persona oltre al ruolo. Tomassetti evidenzia che la vicenda si arricchisce ogni giorno di nuovi elementi. Il quadro diventa sempre più complesso, mortificando sia l'uomo che i territori. Si va dalle indagini della Commissione Antimafia alle ombre sui bilanci del Consorzio Farmaceutico. Di questo passo si rischia di minare la credibilità delle istituzioni. Qualunque sia la formula, bisogna uscire da questo stallo in nome del buonsenso. Negli ultimi tempi è aumentata la pressione per le dimissioni di Franco Alfieri, il quale ricopre un ruolo di rilievo a livello provinciale ed ha ricoperto negli anni un ruolo di livello politico per l'intero territorio occidentano. Pressing esercitato in primis dal centrodestra, sia a livello locale che nazionale, date anche le ultime interrogazioni presentate dai parlamentari Giannone Bicchielli. Negli ultimi giorni voci giornalistiche, ancora da confermare, danno inoltre come possibile un passo indietro di alcuni consiglieri del Comune di Capaccio Pessum, che potrebbero essere intenzionati a staccare la spina all'esecutivo per permettere l'insediamento del commissario prefettizio con il Comune della Città dei Templi che potrebbe andare al voto nella primavera del 2025. Intanto proprio Alfieri è in attesa delle decisioni del Tribunale del Riesame. Ricordiamo infatti che il politico si trova ancora dietro le sbarre dopo l'arresto del 3 ottobre scorso nel carcere di Forni. La decisione sulla revoca della custodia cautelare in carcere avverrà infatti lunedì 28 ottobre, diversamente da come era stato ipotizzato nei giorni scorsi. Lo slittamento è infatti propedeutico alla presa in esame da parte del legale di Alfieri delle 22.000 pagine dell'inchiesta, una mole davvero molto cospicua di carte. Nella stessa giornata di lunedì il Tribunale del Riesame valuterà anche la posizione di Elvira Alfieri, sorella di Franco, attualmente agli arresti domiciliari sempre nell'ambito dell'indagine sugli appalti della pubblica illuminazione a Capaccio Pesso.